per la serie non so se a ridere o piangere famose due risate con gli eroi della pevra quest'ultimo che ho scoperto e niente poco di meno che il vice questore ex vice questore ex perché non fa più parte del sistema e da lavorare per lo stato lei si è messa a lavorare per te pevra e vediamo se funziona qua c'è ancora i droni un altro eroe dalla pevra sta combattendo per te pecore lascia andare da quest'altro mostriciattolo qua è semplice puoi farlo anche tu a 30 vuoi la rai in un post suo c'è le fleur de lis simbolo dell'aristocrazia dell'aristocra venere vincerà venere fa cinque fa una specie di stella girando intorno al sole ma non sappiamo se veramente ci sono questi piani che girano intorno al sole ma cinque come i petali di rose che vedremo e il cinque anche la stella il pentagramma venere molto satanico ma vediamo questa perché lei quindi sta promuovendo questa iniziativa venere vincerà perché ovviamente siccome il sistema non vuole l'uomo perché stanno depopolando ovviamente e quindi dicono la donna che tu sei dio non hai bisogno di nessuno puoi farcela da te con un dildo qui diciamo chi partecipa a questa iniziativa dove lei questa eroe della pecore parteciperà poi vedremo questo video bellissimo la rosa si ripete ovunque vediamo vediamo la prima non si alessandra no questa è lei la seconda linda linda come sei linda vediamo linda linda è un avvocato anche lei è una sta è contro tutto questo è dalla tua parte ed è un avvocato anche lei è un avvocato anche lei è un avvocato anche lei ovviamente è andata a finire da red ronny e red ronny ha fatto un thumbnail per rumble perché red ronny è un ribello è sempre stato in tv non so quanti anni avete ma red ronny è sempre stato in tv per stare in tv è un po' difficile se non hai il sangue giusto diciamo di quei pochi in alto non è che ti lasciano a tv diciamo ma tutto un tratto red ronny ha avuto questa botta di non si sa che cosa forse ha bevuto tanto non lo so cosa io sono red ronny diciamo anche red ronny da rettile è passato a uno molto umano diciamo ed è dalla parte della pecore e qui dice i nuovi eroi in quello che fanno non c'è la ricerca di denaro potere ma l'onorare un compito che sentono di avere una missione sono soldati di satana volevo dire di luce l'ho sottolineato questo perché per chi sa un po' del modo dei paroli chiavi diciamo luce lucifero illuminati ma pecore ovviamente non vuole sentire queste cose perché la pecore noi dobbiamo capire che che è la pecore diciamo togliendo il 95 per cento che sono zombie totali no che basta quello che dice la tv questi questo 5 per cento diciamo che ha fatto di pecore nere diciamo tra virgolette diciamo anche loro sono pecore comunque diciamo e comunque scelgono scelgono i loro eroi e però insomma uno che sceglie un eroe del genere tutto troccato senza una goccia di sudore senza un grafico rifatto magari poi vedremo ma prima vediamo i suoi i suoi colleghi diciamo i suoi i suoi colleghi diciamo quindi questi sono gli eroi per una pecora ribelle veramente che sta messa male diciamo ecco in quel manifesto la venere vince parteciperà anche questa questo soggetto qua anche lei dalla tua parte pecore anche lei dalla tua parte pecore gente umile pecore guarda pecore guarda che gente umile hanging some sheep around her neck who cares l'ottagono ovunque vediamo prima qua l'ottagono e poi qua l'ottagono ma sei una pecore che te frega dell'ottagono tu basta che vedi gente sorridendo truccata come te che ti dice che non devi fa un cazzo allora questa è l'altra collega che parteciperà a questo evento venere vincerà ed è questa cantante ovviamente la gente che finisce insomma da avere un po' di successo ovviamente ha il sangue giusto diciamo però la pecore li vede e sogna loro fanno canzoni ecco questa questa è la la ribello questa cantante è ribello con la mascherina però è della tua parte pecore pecore infatti questo video non è indirizzata alla pecore perché se fosse indirizzata alla pecore io lo farei tutto così e vai beh 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 ma siccome è anche questa ovviamente questa collega è contro i boys no more boys no more problems ok e basta un dildo magari in cani molto molto si divertono con cani poi franca la saletta di lucifer famosi alla rai ci può andare chiunque alla rai e questa qua che abbiamo visto adesso poc'anzi questa collega del carabiniere il poliziotto che cazzo si esibisce insieme a ferruccio rettile alla camera dei deputati rettiliani in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'aula di monte città nel 2020 questo eroe tuo paura bà 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 nel progetto nemico invisibile di cui viene pubblicato il singolo il nostro tempo richiamato viene devoluto ad hauser associato durante la pandeia che porta avanti iniziative per sostegno per ammazzare insomma va bene quindi questi sono i tuoi eroi promuovono la la pandemenza vediamo questa canzone perché facendo un minimo di ricerca ho voluto un attimo vediamo come in alto così anche in basso una cosa molto massonico nemico invisibile la pecora purtroppo è circondata da nemici invisibili da per cominciare da virus cambiamenti climatici fossil fuels jet fuel jet fuel jet poi lo scoprirete insomma ieri non vanno a carburante poi poi ci sono gli spazio spazio è un'altra cosa invisibile però che esiste il bin lader è il nemico invisibile però che non esiste insomma la pecora quando sei pecora sei circondato da nemici invisibile vediamo il test della canzone ho sottolineato particolari punti che ritanevo pieni di significato la canzone dice canzone pura propaganda quindi essere attenti a questa nostra terra e al mare quindi qui diciamo cambiamento climatico quindi restiamo uniti un nuovo ordine mondiale unire tutta la pagora in uno in un unico fattoria su e a superare insieme diciamo questo insieme quindi insieme quindi niente alle stop al ego pagora perché non è funzionale al sistema se tu vuoi essere pensare al tuo benessere no devi pensare al greggio diciamo pagora stop all'odio pagora unisciti stai zitta con tutti di amare tutti negativo negativo porta negativo scatenare l'inverno per tutta l'italia peace love unity faccio la mia cosa nella casa e nella casa io ci resto andrà tutto bene restate chiusi in casa poi questo è uscito il brano è uscito appena aprile 2020 quindi stavano programmando la pagora che era un po confusa aveva bisogno di nuove mappe per decifrare la realtà qui arrivano i nostri eroi dicono la pagora se tu stop il tuo ego pagora a questa utopia che stiamo preparando per te pagora dio ci aiuti a risorgere parola chiave fenix fenice si risorge da from the ashes viviamo nel rispetto rispettare pagora quindi lgbt gente un po sterile dobbiamo rispettare anziano vecchio fonte di saggezza ti abbiamo perso senza degno saluto senza nemmeno una carezza perché altrimenti se andavi a carezzare un tuo conoscente che restava per essere ucciso che diciamo che che è morto a causa del covennati e diciamo che tu potresti essere messo a se la tua vita a pegora questa bellissima vita potrebbe essere persa in un attimo pegora ma noi per aiutarti per la tua sicurezza l'abbiamo tenuti lontano i vecchiacci e questo è un'altra partecipante da quel quell'evento di questo dove questa è anche lei come vediamo non importa i nomi voi sicuramente voi che siete pegole che conoscete questa gente condividevi i loro video vi fate le pippe davanti a questi soggetti qua questi qua pegole quanto mi fai vomitare ah scusa siccome mi sono diretta la pegole avrei dovuto fare questo è tradotto in pegole che significa mi fai vomitare pegole bioblu 24 sangue blu 24 ore con un bel 6 un bel 6 un bel 6 è un bel 6 ma è anche un altro 6 qua 24 v2 6 6 anche qua è un bel 6 sei ovunque sei molto intelligente pegole e un altro 6 qua pegole un altro 6 qua rovesciato e un altro 6 pegole sei sei tu pegole scusa pegole non ti bastano due 6 pegole sempre lei con i cristalli qua e le pietre su sky ovviamente è facile andare in tv pegole sei contro il sistema certo pegole looks like a dude to me but maybe it's just me il movimento 3v che ho fatto vedere quando pensavo le pietre quando pensavo che ho fatto un video se vedeva l'eroe il presidente di questo movimento diceva ma noi non siamo contro i vaccini noi siamo contro l'obbligo oh yeah oh yeah here we go again now we are back to ritorniamo sospesa perché esprimo le mie idee sulla sette pegora questa è la setta della pegora la tv un altro rito satanico qua lei con la solita rosa di cui ci sono i suoi colleghi perché fino a ieri lei ha lavorato con loro e qui un suo post che ovviamente ringrazia i suoi chi dà la magnate diciamo i suoi colleghi che mi portano nel cuore ovviamente reciproco e qui vediamo un attimo il logo in dettaglio la luce di lucifero il serpente ovviamente il serpente è l'animale più saggio diciamo e loro si credono saggi perché il serpente ha dato la saggezza questa fiamma questa luce della conoscenza diciamo e questo è il logo ovviamente l'aristocrazia è il simbolo del leone the king il re leone è la corona la coglione amico è la setta qua di lucifero ma è la lucifero ma lascia perdere la pegora cambia ovviamente la pegora non può vedere un video del genere un'altra rosa qua la rosa come riprende la 5 a pegora allora vediamo vediamo lei è questa qua che parla adesso questa tutta rifatta così che sembra un personaggio di uomini e donne là come si chiama che cazzo come si chiama i mostri là o intanto vedrete qualche post sul mio libro questo perché scrivere da sempre la mia passione per programmare te pegora ma il mio sogno più grande è sempre quello di continuare a servirti pegora e a servire il mio paese P maiuscola ovviamente perché dai soldi ho stato svolgendo il mestiere che ho scelto quindi te lo sta dicendo che lei sta continuando a lavorare il mestiere che ho scelto per il paese ma stiamo parlando con gente che ha accettato il succo magico dato lo stato gratis o addirittura lo stato mi ha proposto ti posso dare una birra gratis se vuoi prendo questo succo magico oppure che ne dici di un hamburger pegora così ti aiuta anche e qui c'è un post su lei è così famosa che un post dove lei mette come foto se stessa perché qui stop a lego tuo pegora ma non nostro io che sono control the position io posso metto 4 foto di me dove mi sento molto sexy e mettono 400 pegora me la condividono pegora e poi c'è anche una pegora maschia una pegora maschia che dice stupenda donna in tutta I want to meet you Francesco Romeo to vomit in your fucking face ci sono 4265 reazioni a questo post dove lei ha messo questa eroina tua pegora ha messo semplicemente lei che si vede nello specchio e sotto all'iphone che ha fatto la foto ne ha fatte tipo 200 quella mattina e ha scelto queste 4 perché erano le più sexy e ha pensato benissimo lei ha detto siccome sono cieca le pegole io metto questo come foto non c'entra niente con quello che stiamo facendo con questo combattimento per te pegole stiamo combattendo per te che cazzo c'entra il combattimento con me i miei selfie così a cazzo così 4 selfie sexy qua che metto ma che cazzo io frega la pegole la pegole non vuole far cazzo pegole scusa altra foto gente semplice qui ha il suo matrimonio con quest'altra entità oh questo è il lago di... il lago di... no no lago di... Nemi? Nemo? Albano? Albano? Albania? è bellissimo questo posto io mi ricordo ho fatto una camminata oh che cazzo mi fredda mi ricordo io giro sempre per la montagna questo posto è bellissimo e quando sono passato qui al paese che si chiama Nemo proprio l'ho fatto così tenendo il naso proprio attappato perché ero circondato di pegole di questo livello qua proprio l'ho fatto di corsa perché doveva arrivare per forza alla stazione del treno perché finiva il cammino quindi no per dire che cazzo I can't comment la pecora l'eroe della pecora con la mascherina stop al femminicidio riguarda tutti noi dobbiamo far fuori l'uomo l'ottagono di nuovo qua nel suo posto shit amen what the fuck nel suo logo come far fuori l'uomo voglio dire come riconoscere come reagire le molestie le molestie in casa al lavoro per strada gli uomini ti violentano ovunque è una cosa incredibile per casa al lavoro per strada qualcosa di incredibile ma per forza per fortuna ci sono questi per fortuna che prima creano il problema mettiamo un po' di porno a tv e facciamo anche un po' la situazione sociale in modo che il maschio sia come Homer Simpson programmiamo l'uomo ad essere stupido a pensare solo a quello diciamo e ogni tanto via una botta diciamo fare una famiglia è sempre più difficile tutto quanto e quindi che fare è violenta qualcuno aumentiamo amplifichiamo quella cosa là ed ecco che arriva quindi problema ed ecco che arriva la soluzione è sempre più stato più stato quindi lei ti sta ti sta facendo questo libro questo è il libro che ha fatto questa qua quindi attraverso questo libro lei è sempre un soldatino non sa nemmeno quello che sta facendo ovviamente però attraverso quello che fa è come se sta promuovendo più stato ovviamente ma che cazzo avrei a te ecco qui qui vediamo questa donna Maurizio scusi lui è sposato con una donna però lui è un ecco e qui c'è sempre lei vorrai uno con Maurizio che sta semplice tutti ecco qui c'è anche una pevola che serve qui a bar c'è un pevola pevola c'è un pevola c'è un pevola no ve lo dire bah 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 stop un altro posto stop la violenza di genere questa volta di genere i bambini sono incerti che devono prendere ormoni fare operazioni cambiare sesso queste e lei promuove anche questo quindi tagliamo i piselli rendiamo la pevola sempre più sterile ti sta dicendo però ovviamente ovviamente il tuo ero è pevola perché tu sei pevola e lui è arrivato il momento del macello pevola il momento della macellazione pevola quindi per te e chissà quante è strano che non ho incluso quanti pevola avevano condiviso questa depopola questo programma di depopolazione sarebbe stato bellissimo se avessi lasciato anche il numero di pevola che avevano condiviso il posto ecco qui di nuovo Maurizio Costanzo it's easy bro abbiamo finito ah l'abbiamo ah ok questo è il momento magico di dove sentiamo il video no 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 te prego ah quindi non posso non posso ecco avete visto anche il mio numero di telefono ah posso così potete chiamarmi sicuramente troverete qualcuno che vi risponderà perché mi metterà sempre acceso ecco questo qua il mio numero e quindi no niente perché c'è un video siccome non è stato possibile vediamo se ci riesco a farlo partire per la prima manifestazione di venere vincerà tutte donne solo donne perché dobbiamo riportare nel mondo l'energia femminile e far cadere un pezzo di quella narrazione distorta che ci affligge ok facciamo fuori l'uomo pago ciao 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 ciao